gentili telespettatori buona giornata la francia fa la morale all'italia e quando hanno visto una nave con 240 persone hanno capito più niente hanno chiesto alla germania dai prendine metà 120 tu 120 noi tutte ste storie per una nave tutte ste storie e questa la 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 condivisione dei problemi in europa la francia ci fa la morale la germania ci fanno la morale ma non dice allora te ne mando con l'aero no quindi la francia ci fa la morale ma respinge 80 migranti al giorno a 20 miglia avete capito quindi arriva la ritorsione di parigi e schieriamo 500 poliziotti sulla frontiera stracciato l'accordo via l'accordo ma dimenticano fanno finta di non ricordarsi quanto accade tutti i giorni a 20 miglia a 20 miglia tutti i giorni 80 migranti vengono rifiutati dalla francia ma non dovrebbero accoglierli clima di tensione tra italia e francia sul dossier migranti la ocean viking sbarcherà a tolone a parigi non ci hanno visto più sospensione del trasferimento e dell'accoglienza di 3500 rifugiati attualmente in italia e così il governo francese fa la morale a roma per la gestione dell'immigrazione e critica anche in maniera forte tutto ci state sereni ma state tranquilli ma dimenticano appunto cosa succede tutti i giorni alla frontiera di 20 miglia e così le parole di meloni dirette ieri ai francesi sui migranti voi ci criticate ma a 20 miglia con i respingimenti fate di peggio queste sono le prime parole di giorgia meloni e i numeri non lasciano spazio a dubbio l'ansa agenzia di stampa dice sono circa 80 in media i migranti respinti ogni giorno dalle autorità francesi alla frontiera di 20 miglia un'emergenza umanitaria cronica che riguarda principalmente migranti afghani magrebini dell'africa subsahariana circa 250 stranieri stazionano regolarmente al confine tra i due paesi aspettando il momento giusto a 20 miglia le persone che cercano di attraversare la frontiera poi vengono trovate e di notte vengono riportate in italia quindi non può darci lezioni di moralità chi giustamente ma con durezza fa rispettare le proprie leggi la francia crede di avere la verità in tasca e fa la morale agli italiani loro pensano di avere sempre ragione pertanto ci sono le frontiere che vengono blindate cioè non ci sono frontiere ma ci sono delle frontiere bene questo è quello che succede tutti i giorni a 20 miglia e la meloni questa volta non gliele ha non gliele ha mandate a dire gliela dette chiaramente tanto vi racconto anche di altre notizie ad esempio checco zalone in tour dice non temo le polemiche giorgia meloni mi piace perché sa comunicare quindi anche persone che effettivamente si si schierano a sinistra provano simpatia per giorgia meloni dicendo vabbè avrà idee diverse però lei lei va avanti con le sue idee poi ricordiamoci che le idee di destra di oggi alla fine sono idee sia di destra che di sinistra ormai le idee di sinistra si sono spostate a destra e poi vediamo che Bettini ermonaco viene chiamato così nel pd ermonaco del pd dice il pd torni alle ragioni della sua esistenza che non ci sono più anche Bettini persona un filosofo vede che nella sua sinistra nel suo pd non c'è più niente è una scatola vuota e conte e conte occupa il vuoto lasciato dalla sinistra cioè il pd è una scatola che tu apri ed è vuota ma chi l'apre l'apre conte è lui che si sta impossessando di una sinistra non perché abbia doti eccezionali o chissà quale grande statista sia ma semplicemente perché dall'altra parte non c'è nessuno c'è una stanza vuota lui sta occupando una stanza vuota ma sull'ex presidente del consiglio Bettini dice non voglio fare alcun partito con il leader del movimento 5 stelle e poi vediamo che del bonus 3000 euro ne abbiamo già parlato ieri quindi passiamo a un'altra notizia parliamo di un altro uomo di sinistra cacciari a carta bianca su rai 3 accusa l'unione europea sui migranti dice manca e continua a mancare è un europa fatta da tanti stati sovranisti eccetera eccetera che non hanno nessuna intenzione di ricevere migranti che arrivano da un altro da un altro paese questa è la la realtà e non è la prima volta che cacciari mostra tutta l'inconsistenza della sinistra di cui lui faceva parte oggi fa parte in maniera marginale per quanto riguarda poi carlo calenda anche lui tenta una sorta dice la francia è la 72 mesima volta che apre i porti oltretutto questi migranti una volta sbarcati vanno nel resto d'europa e non stanno da noi così il leader di azione ospite da floris si scontra con bruno vespa dice sui migranti sono sovranisti tutti i paesi però la francia più volte si è dimostrata disponibile tutti i paesi in europa sono sovranisti sia politici di destra che di sinistra sono tutti sovranisti l'anomalia in italia dove l'unica sinistra che è favorevole agli sbarchi in europa è la sinistra italiana dalle altre parti destra e sinistra su queste cose la pensano esattamente allo stesso modo e poi io vi ringrazio vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti e nuovamente vi ricordo che c'è l'italia seconda rete poi c'è in cucina con carla con la cappa e poi questi video vengono condivisi dopo qualche dopo qualche ora anche nella pagina di facebook che si chiama tele italia grazie a tutti e arrivederci a presto